Amici di Giappone a quattro mani, questa sera siamo a casa di Ivan che ci ha gentilmente ospitato per spiegarci la via del filo giapponese, il Nui Do. Ma prima... SIGLA! Ecco ma prima di parlarci della parte tecnica, quindi di spiegarci un po' che cos'è il Nui Do, spiegaci come mai ti sei avvicinato a questo stile, a questa via, a questa forma. Io, allora, hai usato la parola giusta, proprio la via è il percorso che si compie attraverso il Nui Do per raggiungere la perfezione, la purezza, la bellezza, tutte queste cose che sono alla base una cosa molto religiosa. Al principio del buddismo stesso, questa arte viene praticata come una forma di religione per raggiungere il più possibile la perfezione della natura trasformata in ricamo. È un punto dopo punto, si impara sempre, si prosegue, se è un viaggio, cominciare un ricamo Nui Do significa compiere un viaggio attraverso questo tipo di arte, cercando di raggiungere la perfezione. Quindi uno pensa di ricamare, in realtà... In realtà è un percorso spirituale, esattamente. E quindi è un percorso spirituale per te? Sì, è un percorso spirituale in realtà, tant'è che è nata come un'arte puramente religiosa legata al buddismo, arrivando poi ai giorni nostri ad arrivare invece a ornamento per abiti e altre cose. Però è proprio arrivata in Giappone con l'idea di un percorso religioso. Caspita! E tu ti ci sei avvicinato? Io a me ci sono avvicinato perché sono un grande appassionato di ricamo, di maglia, uncinetto... Sì, sappiamo, fai anche degli amigurumi spettacolari. Sono rimasto affascinato da tutta questa filosofia che c'è dietro, perché alla fine su una parte molto tecnica, soprattutto se chi ci segue magari se ne capisce un pochino di ricamo, si tratta fondamentalmente di punti come il punto pittura o cose del genere, che sono anche nella tradizione occidentale utilizzati per ricreare gli effetti naturali, ad esempio di fiori, foglie, queste cose così. Ma il bello del Nui Do, la cosa che mi ha colpito del Nui Do è stata che attraverso questi punti, proprio lì si va alla ricerca della perfezione. Deve rimanere un ricamo finito, deve avvicinarsi quasi all'essenza vera della cosa che tu hai ricamato, nella singola sfumatura, proprio. Infatti noto che ci sono proprio le sfumature di colore come se fossero pennellate, come vi dicevi. O effetti, ad esempio quando viene ricamato un effetto su acqua o un effetto su un piumaggio, su una cosa del genere, si va a ricreare proprio con dei rilievi la forma che avrebbe la piuma o l'onda o queste cose in modo da renderlo il più realistico possibile. Meraviglioso. Ma vediamo l'opera che hai fatto proprio tu con le tue mannine. E ti spiegherò qualcosina di tecnico. Benissimo. Il Nui Do è codificato in 47 punti, che ognuno ha una sua propria funzione, una sua propria filosofia e simbologia, ognuna delle quali è beneaugurante. Come vi dicevo, si cerca di ricreare l'effetto più naturale possibile e ci sono, all'interno di queste 47 tecniche di ricamo, alcune tecniche che prevedono di ricamare a strati per dare spessore, come potete ad esempio notare nella parte del piumaggio. Questo kimono era un kimono in seta stampata, a mano. Qui potete vedere i dettagli del disegno. Io ho ricamato sul disegno sottostante. In questa parte, come vi dicevo, si vede la tecnica proprio del ricamo a strati, che dà proprio un effetto come di un reale piumaggio. Più simile a qualcosa che noi vediamo anche nella cultura occidentale è ad esempio la parte del muso di questo fagiano dove vengono fatte proprio letteralmente quasi come nel punto pittura classico le sfumature per ricreare i colori. stessa cosa la troviamo nelle piume. Si deve dare comunque sempre un'idea di naturalezza, di avvicinarsi il più possibile a quanto è in natura. Questo è stato il primo lavoro che ho fatto e sicuramente non sono a livello dei grandi maestri giapponesi. Non ho la presunzione di esserlo, ma ho cercato nel mio piccolo di essere il più fedele possibile alla tradizione. Nelle figure classiche ritroviamo spesso raffigurazioni nella natura, quindi animali in particolare, proprio per gli effetti che dà questo tipo di ricamo, animali come uccelli per il piumaggio, oppure paesaggi. Viene ricreato ad esempio molto il movimento dell'acqua, al movimento del vento, il movimento delle nuvole, tutto ciò che comunque riguarda la natura. Anticamente era un ricamo prettamente religioso, quindi c'erano delle raffigurazioni del Buddha o comunque di figure sacre del buddismo. Poi nell'evoluzione di questa tipologia di ricamo siamo arrivati alla decorazione degli abiti. Infatti viene utilizzato soprattutto per la decorazione dei kimono e degli obi. Ecco, ma questo splendido kimono, dove l'hai trovato? Allora, l'ho comprato nel 2011 tramite un negozio ebay che era un negozio dell'usato di Kyoto. Si tratta di un kimono di inizi del Novecento che è stato cucito e dipinto a mano. Quando poi l'ho acquistato, mi è arrivato, gli ho fatto tutto un trattamento per pulirlo, è stato un mezzo delirio per cercare, avevo il terrore di distruggerlo. Ho voluto sperimentare ricamandolo e ne è venuto fuori il lavoro che avete visto. Ci sono voluti due anni e mezzo di santa pazienza, però ne è valsa la pena. Il risultato si è visto. Poi, come ti ho detto prima, sai che alcuni dei punti, ma soprattutto dei simboli raffigurati con noi do, sono bene auguranti. Come ben sai, è stato il mio regalo per salutarti prima della tua partenza in Giappone e spero che abbia fatto il suo effetto. È stato molto apprezzato. Poi tutta questa fortuna non ce l'ho avuta, ma speriamo... speriamo a mettere più spesso il kimono che non si sa mai. Esatto, non l'ho indossato. Non l'ho indossato. Ma perché sta meglio da Andrea. Sta meglio da Andrea. Oggi vogliamo il firmato dove sta meglio da Andrea. Ti serviremo della nostra splendida modella, direi. Fattiamo quindi. Allora, qui vediamo quindi il tuo kimono. Esatto. Basandomi su alcuni testi pochissimi che si riescono a trovare al di fuori del Giappone su Noido, ho sperimentato questo tipo di ricamo ricalcando, diciamo, con l'ago i colori e il disegno che erano sotto. Ecco, splendida proprio, diciamo, la tecnica di come si rende poi l'ala e la lucentezza esatto, vi è molto fani filati. Attenzione, attenzione. No, 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 no. Non riprendere la faccia, no. No. Va bene, avete scoperto che non avevamo una modella, purtroppo, che potesse indossare questo kimono e quindi, vabbè. Forse ti manca l'obby. la prossima volta ti ricamo un'obby. Va benissimo, non sono io a dire di no. E magari ti preparo anche il ramen. Ecco, potreste vedere ancora questo ragazzo sul nostro canale, perché questa cosa del ramen ci potrebbe... Sì, vogliamo vedere a Pippi assolutamente. Sì, stanno buttare a Pippi. Eccolo, ciao. Ecco, questo è un gatto, non come il mio, che è demoniaco. Questo è un gatto che poi a casa... Un po' meno demoniaco. È un gatto bellissimo che ha un po' paura, però perché non mi conosce. Comunque, siamo arrivati a fine video e appunto, dicevamo, ci vediamo la prossima volta. Ciao e grazie. Grazie.